Grazie a tutti. La nuova figura del giornalista. Il pomeriggio invece si entrano più nei dettagli su quello che vuol dire imparare a usare gli strumenti per diventare poi dei data journalist. Parteciperei perché il data journalism è una di quelle frontiere su cui si sta evolvendo la nuova figura del giornalista, una figura che ha bisogno di tante competenze, competenze che possono essere divise tra vari personaggi, tra chi si occupa di design, chi si occupa di informazioni, chi si occupa di sviluppo software e altri ancora. Ed è quindi una grandissima sfida per imparare un lavoro del futuro e capire cosa possiamo fare con i dati aperti. L'appuntamento pertanto è al Data Lab Istat, al workshop che si trarà il 17 ottobre riguardante il data journalism. Mi raccomando venite in tanti e venite con il vostro portatile perché avete una grande opportunità di imparare un nuovo lavoro e vedere le frontiere di un nuovo modo di lavorare. Mi raccomando venite in tanti e venite abbondanti. Grazie. 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 Grazie a tutti